Terza giornata di lavoro per il Pescara nel ritiro di Palena. È la settimana che porterà al debutto ufficiale stagionale del Delfino, che domenica prossima alle 20.30, a salvo variazioni per motivi televisivi, riceverà all'Adriatico Cornacchia la Triestina di Sannino, ripescata in Pectore in Serie C per il secondo turno di Team Cup. Gli alabardati si sono qualificati battendo di misura a domicilio l'Arezzo. Intanto è sempre il mercato a tenere banco, soprattutto sul fronte delle uscite, per il quale si fa fatica a mettere nero su bianco. Una difficoltà che si ripercuote sul fronte delle entrate, visto che la Rosa Extra Large impone di cedere prima di poter acquistare giocatori compatibili col progetto Zemaniano. Nelle ultime ore è emerso l'interesse dell'Ascoli per Michele Fornasier, ma la trattativa deve ancora decollare. Curiosamente l'ex d'Oriano non è a Palena, al pari di Cesare Bovo. Entrambi sono infortunati e anche Bovo potrebbe salutare il Pescara in caso di chiamata dalla Serie A. Crotone e Spal ci stanno pensando. Gli svizzeri del Sion non hanno ancora affondato il colpo per accaparrarsi il capitano Ledyan Memushai. Pezzi pregiati del mercato restano Zampano, Biraghi e Benalì. Su Zampano è piombata l'Udinese che è individuato nel laterale genovese il vice Widmer. Benalì e Biraghi restano nel mirino della Sampdoria sul difensore milanese. C'è sempre l'interesse del Chievo. Manca solo l'ufficialità per Vitturini in prestito al Carpi e per Polidori alla Provercelli, mentre attendono sistemazione gli altri giocatori non portati a Palena e che si allenano al Poggio. Sarà questa una settimana intensa per il Delfino con le amichevoli di domani alle 17.30, sempre nel comune della provincia di Chieti, contro la Fidelisandria. Giovedì test in famiglia contro la primavera di Massimo Epifani e subito dopo la presentazione in piazza, sempre a Palena. Intanto con la chiusura della fase per esercitare la prelazione, da questa mattina alle ore 10 è iniziata la vendita libera delle tessere di abbonamento.